No, non si può uscire fuori casa Deve non correre dietro le persone per scutargli in faccia Ma tu non mi cerchi più Non mi chiami né oggi né domani Non ne posso più, non ne posso più Quelle attenzioni che oggi mi richiedi sono stesse che ieri non volevi Sai ci ho pensato e ho capito che La nostra quarantena è più bella se, è più bella se Se ci vediamo ad ottobre, sì forse ad ottobre Se ci vediamo ad ottobre, o forse mai più